Il messaggio è quello di lavorare fortemente in primis su mettere insieme quello che è la parte dell'azienda, quindi il business con la cultura. E questa è una delle cose che porto avanti sempre. E l'altra parte è la ricerca con i giovani perché c'è bisogno di dare una continuità. Quando, dico nella vita, abbiamo degli step. A 20 anni facciamo un'esperienza, a 60 anni, io li compio fra un mese, esattamente fra un mese, a 60 anni è giunto il momento in cui uno deve insegnare e deve passare la propria esperienza. E quindi anche questo lavoro che abbiamo fatto con i grandi architetti e con i ragazzi, proprio qui in Accademia, proprio di questa ricerca e di questa situazione. L'esperienza fatta in questi mesi è stata eccezionale anche con le aziende. Abbiamo avuto tantissime aziende che hanno aderito, dove ognuno ha messo la propria esperienza, la propria conoscenza. Gli artigiani che hanno lavorato con i grandi architetti, piccole aziende che si sono trovate a contatto con un architetto che guardava le fotografie, che faceva delle cose incredibili. Ma io non so mica fare queste cose. E poi invece alla fine, magicamente, è venuto fuori una cosa splendida.